Parliamoci chiaro, il concetto di sostenibilità applicato al mondo degli autolavaggi è stato per molti anni uno simoro. Ma oggi la musica è cambiata. Un lavaggista Wastek sa che esistono delle accortezze che portano a un grande risparmio, anche economico. Un lavaggista con un impianto Wastek sa che oggi bastano 40 litri per lavare una macchina, grazie al sistema di riciclo, quando una volta la media era di 300 litri. Wastek sa quali chimici evitare e quali sono diventati ecosostenibili e quindi non inquinano più le falde acquifere. Insomma, sa che ci sono tanti modi per essere sostenibili e avere a cuore il bene della nostra comunità. Se hai sposato la nostra filosofia, il prossimo passo è farla sposare anche i tuoi clienti e per questo abbiamo pensato qualcosa che fa il caso tuo. Wastek ha pensato di ricompensarti con qualcosa di concreto, che potrai toccare con mano e mostrare con orgoglio. Il badge di sostenibilità Wastek. Il certificato verrà assegnato solo a chi rispetta scrupolosamente i nostri standard ambientali. Insieme al badge verranno consegnati anche tutti i materiali di marketing come adesivi, lettere e volantini, che non solo amplificheranno la visibilità del tuo autolavaggio, ma mostreranno a tutti il tuo impegno per una comunità migliore. È una scelta responsabile, è l'adesione a un certo stile di vita, è la prova tangibile del tuo impegno, della tua differenza. Come richiedere il tuo badge e tutti i materiali? Contate il tuo referente Wastek e scopri come ottenere il tuo certificato di sostenibilità. Continuiamo a migliorare la nostra comunità. Un autolavaggio alla volta. Un autolavaggio alla prossima.